Non crederò a me che cazzo, eh? Si trova a fermarsi, si deve pagare E' la diretta lì No, è l'acqua! Andiamo! 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 Arriba! Oh no! Tutto ok? Un po' assurdata, ma sto bene. Grande! Muoviamoci. Muoviamoci. Oh Dio! E questo che diavolo è? Lo scopriremo presto. Ok, vediamo a cosa serve. Quella statua si è mossa. Beh, vediamo come va. È un marchigegno complesso. Niente male. Oh man! La statua si è mossa. Calma. 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 L'hai fatto anche l'ultima volta. Mi sa che hai ragione. C'è mancato poco. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Vieni su. Arrivo. Ah, per l'amor del cielo. Tre statue con due simboli diversi. La stella. Sono tutti simboli del sole, ma... Per un soffio. Per un velo. Ancora un po'. Ok, è fatta. Su, vieni. Perfetto. Sto arrivando. Ah, immaginavo ne mancasse ancora uno. Come lo sapete? Tre è il numero perfetto. 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 Beh... Devo farmi male. Va. Bah. Ah! Ah! Ok, fin qui tutto bene. Uh! Mi ha spiorato! Ma non abbastanza. Ah, aria fresca. Qui abbiamo un'ascia. Oh, che diamine! Così non vale! Ben trovato, Shiva. Forza, chiudiamo questa questione. E va bene. Oh, merda! Visto? Ho detto che era pericoloso. Fatta male. Solo la dita. Ecco fatto. Ecco che arriva l'acqua. E siamo a tre. Sai, te la cavi bene a cacciare tesori? Io imparo in fretta. Ho una domanda. Una come te potrebbe fare di tutto nella vita. Perché vuoi riprenderti la shoreline? Sei serio? Mh. Il mio socio mi aizza contro le truppe. Il mio tenente sparisce con la taglia. Nathan e Samuel Drake la passano liscia e mi chiedi perché rivolgo la shoreline? Sì. Come andavo io? Eppure ho perso tutto. Che diavolo è quel coso con cui giocherelli? È il mio antistress. È apparso nella posta non appena arrivami in Australia. Ok, diamoci una mossa. Asav non deve superarci. Sai, anch'io ho combinato la mia sana dose di cazzate. Basta solo rialzarsi e andare avanti. Non mi piace fallire. Come tutti, amore. Torniamo alla macchina. Amo le scorciatoie. E' sicura che non dobbiamo tornare da lì. Ho già schivato troppe asce. Se vuoi esplorare altre zone nei paraggi, ti consiglio di farlo ora. Giusto. Senti, per quello che vale, devi ringraziare la tua reputazione per questo lavoro. E poi ho pensato ti servissero i soldi. Come negarlo? E sinceramente, fa piacere lavorare con una donna una volta tanto. Sono d'accordo. Non siamo in molte, purtroppo. Una volta un trappicante d'armi mi ha chiesto di parlare con l'uomo al comando, ma si è rimangiato qui? Un secondo. Quali meraviglie ora? Questo viaggio è una festa per i miei calli. Caro cervello, questo è il tuo momento. È simile al meccanismo di prima, ma un filo più complesso. Tanti ruotano separatamente. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci tornerò dopo. Direi che ci siamo quasi. Grazie a tutti. 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 Anna di Ross è il boss. Lo metterò sul mio biglietto da visita. Non puoi andartene e farla finita con la shoreline? La shoreline è casa mia. Non ho altra scelta. No, c'è sempre una scelta. C'è sempre una scelta. No, c'è sempre la scelta. Do un'occhi, c'è sempre la scelta. Do un'occhiata in giro. Aspetterò qui. No, c'è sempre la scelta. No, c'è sempre la scelta. è un buon segno. letteralmente. No, c'è sempre la scelta. Ok, vediamo cosa serve. Oh, c'è sempre la scelta. Oh, c'è sempre la scelta. Oh, c'è sempre la scelta. la scelta. Oh, c'è sempre la scelta. Oh, c'è sempre la scelta. Ok, il meccanismo è chiaro. Sono il tuo pagliaccio Non sono stata abbastanza veloce Non sono stata abbastanza veloce Ecco, sento ancora quel rumore C'è un'altra fontana? Ah, devo tornare al punto di partenza Aspettavi da secoli che ti trovassi Aspettavi da secoli Aspettavi da secoli Do un'occhiata in giro Trovo qualcosa da fare Dunque... Dunque... Ehi, ti andrebbe un giretto? Un'occhiata in giro Un'occhiata in giro Un'occhiata in giro Grazie a tutti. 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 Wow, si vola! Grazie a tutti. Cosa abbiamo qui? Tu vieni con me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Va bene, a dopo. Vediamo.